...entro per Clarence, vediamo il Digno, il Digno a cercare Boa, Boa, se la porta avanti con il petto, poi finisce a terra, riguarda il ritmo, ecco Ronaldinho, Ronaldinho prova a mettere in mezzo, c'è la deviazione, Antonini, Zedorf, ancora Ronaldinho, colpo di tacco fantastico di Ronaldinho per Zedorf, va in scivolata. Sandro, lancio lungo, complessivamente migliore nel nostro primo tempo rispetto all'Oxair, però il numero di occasioni è solo leggermente superiore, ecco Ronaldinho, Ronaldinho la mette in mezzo colpo di testa di Ibra, Ronaldinho, Ronaldinho, supera l'avversario il Digno, palla in profondità del Digno per Super Pippo, Super Pippo vede Ibra, Super Pippo vede Ibra e gli da palla, Ibra l'allarga bene per il Daniele, il Daniele la mette in mezzo subito, attenzione il Digno, attenzione il Digno dall'altra parte dell'area di rigore, il Digno, il Digno, si libera di un avversario, il Digno, finisce a terra, finisce a terra e il signor Morganti dice che sta correndo molto e sta giocando con intensità nonostante la fatica di poche ore fa in Champions League. aveva preso la palla in effetti potenza, non è facile dividerci il campo fra Sedor Ferron al Digno, fra Ibrahimovic e Inzaghi, ecco Pier, va in area Ibra, Clarence, Clarence, Clarence la dà adesso al Digno, il Digno la mette giù, la mette dentro per Ibra, peccato, 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 troppo lunga. Iscio da parte di Mascara, Bonera, palla messa in mezzo, Digno, Digno, dentro, Pippo, gol, gol di Super Pippo Inzaghi, 1-1, 1-1, ma come sei bella Benedetto, ma come siete belli tutti, com'è bella la vita, è bella la vita quando segna il Milan. Guardalo il cielo, non piove neanche più, il cielo sopra questo stadio, 1-1, 1-1 prima della fine del primo tempo. Super Pippo Inzaghi, la seconda, la carezza e la mette dentro Super Pippo. Cerco correre nel dubbio a Cesena, questo col metro di Cesena non ce lo davano. Altro che parliamo a sproposito, noi non parliamo mai. Non era semplice vedere che era regolare, non era semplice vedere che era regolare, Digno, Digno, tira Dignone, tira Dignone, Zlatan, 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 area di rigore Zlatan, si ferma Zlatan, Digno, Digno, tiriamovi prego, Digno se ne va, Digno se ne va, fermato, lo chiudono quelli del Catania. Cambia campo per il Digno, con il petto il Digno, attaccato da Potenza, il Digno se ne va, il Digno elude l'intervento dell'avversario, ecco il Digno, il Digno che manda a vuoto Potenza. Pallo di mano, calcio di punizione battuto, Zedor per il Digno, il Digno prova ad avanzare, il Digno aspetta, il Digno la mette in mezzo per Ibra, peccato. Un po' troppo alta e troppo radente la palla di Ronaldinho, ma la palla è nostra, Ronaldinho avanza la squadra, prova la squadra, 14 del secondo tempo. Ecco Ronaldinho, palla dentro per Ibra, Ibra la fa imbalzare, lo strattiene da tutte le parti, il numero 3 Spolli. Il Catania, piace il Milan della ripresa, piace molto, però siamo sempre sull'1-1. La palla lunga di Ronaldinho è per Boateng che la tiene in campo, poderoso lo scatto di Boa, poderoso lo scatto di Boa, che insiste, mette in mezzo, ci mette. Rimane in tensione, a passo di corsa a Luca, Ronaldinho, Ronaldinho fa uno splendido tunnel, Ronaldinho esce dai blocchi, appoggia per il Boa. Il Boa, attaccato, il Boa rimane in tensione, a passo di corsa a Luca, Ronaldinho, Ronaldinho fa uno splendido tunnel. Ronaldinho esce dai blocchi, appoggia per il Boa, che è il Catania ragazzi. Di fatto non usufruiamo dell'angolo, ma Ronaldinho se ne va, Ronaldinho se ne va, la mette in mezzo Ronaldinho, allontana Maxi Lopez, che peccato. E il Catania ragazzi, di fatto non usufruiamo dell'angolo, ma Ronaldinho se ne va, Ronaldinho se ne va, la mette in mezzo Ronaldinho, allontana Maxi Lopez, che peccato. Ago a disturbare, Ronaldinho, Ronaldinho, serie di tocchi del Digno, la appoggia su Sedorf, grande Ronaldinho. Cambiamo, cambiamo, Sedorf, Ibra, alla vigore, Ibra, dentro, Ronaldinho, smorzata incredibile. smorsata e inscivolato da due inscivolato da due la smorzano e arriva Molle l'MLM tra le mani di Anduar altra bella azione nostra